Si chiama In Giro per Alpeggi ed è un progetto ideato dal consorzio turistico Sondrio e Valmalenco finalizzato alla promozione di un turismo incentrato sulla valorizzazione, sulla salvaguardia e su di un processo di vera e propria conoscenza di quella che è l'attività d'Alpe. Un passaporto contenente i riferimenti di ben 37 alpeggi, 37 differenti realtà di vita, di lavoro, di amore per il territorio alpino e per la natura, unica che lo contraddistingue. Oggi a Campofrancia, a Lanzada, la presentazione di questa iniziativa, pronta a partire. La valenza principale ovviamente per noi è quella di tipo turistico perché impone il fatto di far conoscere e valorizzare le nostre zone, le zone del mandamento di Sondrio, quindi tutti i comuni, tutte le valli del nostro mandamento. Però dietro a questa operazione c'è un ragionamento di tipo culturale, di tipo sociale che va a verificare e sostenere quella che è il lavoro, la dignità e il ruolo dell'alpeggiatore che è anche un ruolo di presidio territoriale. A correddo del passaporto, nel quale per ogni alpeggio sono riportati caratteristiche e tempi di percorrenza lungo i sentieri, una cartina di tipo turistico servirà ad indicare le ubicazioni degli alpeggi. Parte dell'iniziativa anche un concorso fotografico, alla premiazione del quale avverrà a coronamento di un altro appuntamento, quello della festa dell'alpeggio. Un percorso di valorizzazione da sviluppare su più piani, mediatico, sociale, culturale e didattico. E sono tanti gli enti coinvolti nel progetto. Qui la coralità non manca. Noi siamo per un turismo e una frequentazione comunque rispettosa della montagna, quindi è importante, e questo progetto lo fa bene, anche spiegare le regole che si devono seguire quando si va in montagna. L'approccio con cui ci si reca in luoghi che sono di tutti, ma che vanno rispettati per prima cosa e poi vanno anche promossi e valorizzati, ma sempre in un'ottica di sostenibilità. Abbiamo aderito a questo progetto con molto entusiasmo, in quanto è insita proprio nella natura del FAI promuovere tutto ciò che è a difesa dell'ambiente, del territorio, del paesaggio, ma anche dell'ambiente umano che c'è nel territorio. Un territorio che oggi si affaccia ad un futuro pieno di incognite, certo, ma che ritrova nei propri luoghi, unici per bellezza, nella propria cultura di montagna, nuove possibilità, nuovi spunti per una rinnovata interpretazione di turismo. Mai come in questi ultimi anni abbiamo portato quello che sono le istanze, ma soprattutto quello che è la conoscenza di un comparto così, a volte periferico, poco centralizzato, ma che così deve essere. È apposto per questa conoscenza che si è sensibilizzato. È importante capire cos'è un territorio. Dietro tutto questo c'è l'allevatore, l'agricoltore che ci lavora, però ci siamo anche noi, anche il privato c'è, perché per mantenere un territorio bello ci vuole anche la mano del privato. Ognuno di noi deve fare la sua piccola parte per mantenere il territorio. Un'agricoltura forte è sinonimo di turismo forte, perché sempre più il turista è alla ricerca di luoghi ben mantenuti, alla ricerca di tradizioni e di prodotti del territorio e quindi questo connubio è fondamentale per la nostra provincia. Un gioco di squadra nel quale accanto alle istituzioni sono quelle aziende così identificative di questa realtà alpina ad entrare in gioco. Vorremmo anche dare il nostro contributo, per quanto piccolo o grande che sia, a diffondere la conoscenza, a diffondere anche la fatica che sta dietro un territorio mantenuto, a cercare di sensibilizzare sulle regole anche di utilizzo e di fruizione di questa montagna che è meravigliosa. Questo coinvolgimento è importante perché riesce a riavvicinare l'uomo a quello che era un po' il passato, la natura. Non è fare un passo indietro, anzi, è recuperare qualcosa che purtroppo in questi anni si è perso.